L'applauso di Roma risponde a quello di Strasburgo. Davvero una buona idea, quella dell'Ufficio per l'Italia del Parlamento Europeo, di seguire in diretta, dallo Spazio Europa di via 4 novembre, la cerimonia di consegna del premio Sakharov 2015, che come i nostri ascoltatori sanno è stato assegnato al blogger saudita Raif Badawi, incarcerato e condannato a mille frustate dai tribunali coranici del regime di Riyadh per la sua difesa della laicità e della libertà di opinione. Anche a Badawi, malgrado i ripetuti appelli delle autorità europee, non è stato concesso di ritirare il premio personalmente. A rappresentarlo, insieme alla sedia vuota posta al centro delle biciclo, sua moglie, una piccola donna coraggiosa che si chiama Ensa Faidar e vive in esilio con i suoi figli in Canada. Il suo discorso, mite, pieno di quel coraggio senza odio che è la forza dei giusti, appassiona e commuove. Nell'aula i deputati e a mille chilometri di distanza il pubblico romano, soprattutto studentesco. Non è la prima volta che il Sakharov è consegnato ad altri per la forzata assenza del titolare. Alcuni precedenti, come quello di Nelson Mandela e Aung San Suu Kyi, fanno ben sperare anche per la sorte di Badawi, bandiera della libertà di pensiero e di parola. L'iniziativa capitolina, arricchita da un messaggio di Antonio Tajani e da un videointervento di David Sassoli, non è stata asciupata dall'imprevista assenza di Salima Ghezzali, giornalista e scrittrice algerina che nel 1997 fu insignita del premio andato quest'anno a Badawi. Il forfè ha provocato un repentino ma efficace cambio di scena, con il padrone di casa Giampaolo Menighini, che ha assunto le vesti di intervistatore, e il vice direttore dell'ANSA, Stefano Polli, che avrebbe dovuto intervistare la Ghezzali, a ritrovarsi intervistato. Missione compiuta da entrambi egregiamente. Abbiamo raccolto le loro opinioni. Il senso dell'iniziativa è stato quello di portare, di aprire Casa Europa, aprire lo spazio Europa alla società civile, ai nostri referenti istituzionali, a tutti i cittadini europei, in un momento importante. La consegna al Parlamento Europeo, sessione plenaria di Strasburgo, del premio Sakharov 2015, a Raif Badawi, blogger dall'Arabia Saudita, imprigionato, ancora in carcere. Un messaggio a tutti noi, affinché i valori europei siano il rispetto dei diritti umani nel mondo, che l'Europa torni a credere nei suoi valori e torni a essere l'esempio per il mondo intero. E' una grande iniziativa. Il premio Sakharov è molto importante perché ci ricorda che il rispetto dei diritti umani, dei valori, dei principi che sono proprio alla base della fondazione dell'Unione Europea vanno difesi giorno per giorno. Non dobbiamo dare nulla per scontato. I paesi in cui questi diritti sono rispettati sono ancora una minoranza nel mondo. Sono tanti paesi nel mondo dove purtroppo questi diritti non sono rispettati, anzi sono violati giorno dopo giorno e il senso di questo premio di oggi ci ricorda appunto questo. Noi giustamente tutti i giorni critichiamo l'Unione Europea, critichiamo i nostri paesi, abbiamo molti problemi, però dobbiamo ricordarci sempre che viviamo in paesi dove possiamo liberamente pensare, liberamente scrivere, liberamente scrivere le nostre opinioni. Dobbiamo ricordarci l'importanza di questo lavoro, di quanto sia importante farlo bene proprio perché in molti paesi non è possibile esercitare il lavoro di giornalisti.